Io, Carlo, scelgo te, Anna. Io, Carlo, scelgo te, Anna come mia legittima sposa. E ora, Carlo, esprimi il tuo consenso. Io, Carlo, scelgo... 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 Io, Carlo, scelgo Iliad. TDC a Iliad. Scegli l'offerta per clienti provenienti da Vodafone, Team, Win3, FastWeb e operatori virtuali. Insomma, tutti. Sì, proprio per tutti. Entrare per credere. Io, Carlo, scelgo...